Ogni anno 800.000 italiani scelgono di farsi curare in centri di eccellenza fuori dalla propria regione. È un diritto quello di decidere dove, come farsi operare o seguire da uno specialista, un fenomeno ribattezzato turismo sanitario. Le regioni che vedono l'arrivo del maggior numero di pazienti sono Lombardia ed Emilia-Romagna, eccellenze assolute nel paese, standard qualitativi molto alti, al pari di altri paesi europei, ma soprattutto due delle poche regioni, appena sei, che hanno i conti in attivo. E' questo a fronte di 14 regioni che sono in rosso, prime fra tutte la Calabria, la Campania e il Lazio. E siccome non ci sono più soldi per colmare questi debiti, che cosa si fa in Italia? Che via si sceglie di perseguire per colmare la forbice tra le regioni virtuose e le altre? Incentivare chi è indietro a rimboccarsi le maniche per recuperare il terreno perso sarebbe troppo complicato. E allora si sceglie la via più semplice, l'intervento dello Stato, che questa volta non può mettere i soldi perché non li ha. L'indebitamento complessivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale sfiora i 60 miliardi. In che modo? Alla conferenza Stato-Regioni è arrivato un documento in cui le regioni chiedono di bloccare il turismo sanitario, ovvero vietare al paziente che ne ha bisogno di potersi far curare in centri di eccellenza in un'altra regione, costringendolo a rivolgersi a strutture della propria regione. Anche quando godono di pessima fama, facendo così il Sud vedrebbe frenata di molto la fuga di pazienti e nelle casse vuote entrerebbe qualche euro in più, ma tutto questo a scapito del paziente.